Una volta si accedeva al puerco, le vicine si aiutavano tra loro, stavano con la scannava, con la penneva, con la scorciava e con la spadazzava. Le vicine si davartevano quando si faceva la salzizia, eravamo tutta una famiglia e si ballavano. Un'altra volta si accedeva al puerco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.